Siamo il saluto, il Buon appetito! Adelante! Il grante Ille Ortiz, Lo signo del Padre! che momento, che momento muñecos di paper, a fare storia che momento, il himno patrio sarà un giorno importante per questo grande club che noche che ci aspettiamo per come aciare una pagina di storia questa è la mia bandera per lei la luchare perché sono un mexicano di pura cepa questa è la raza applausi ora il himno il himno di mexico questo è mexico questi sono i giocatori di Michoacà loro hanno la responsabilità come voglio mexico mexico è color mexico è sangria mexico è raza lo deixaré tutto però aca sta muñecos di papel un adversario digno per una gran final che momento che viviremo tutto o nada è il ultimo giorno per fare storia questo è il arquero la responsabilità recae in l'Ostres tubo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Come hierve mi sangue, come siento Ese gran encuentro lo dejaré todo Lucharé hasta la última batalla Pondré mi conocimiento para demostrarle a todo este público que se dio cita Porque yo tendré que ser el mejor en este escenario Esta es mi arena, este es mi lugar Aquí se me respeta porque soy el mejor En breves minutos estaremos diciendo quién es el ganador Y este es el árbitro, la persona responsable para seguir este gran acontecimiento Ahora sí, la parte protocolar, el saludo de estos grandes flyers Vamos, como indica la diplomacia Hay el cariño, el estímulo, el respeto de todos estos chicos Que pondrán su conocimiento para darle el sentido a un partido El abrazo, la risa Pero cuando ruede ese balón Será una cosa diferente ¿Qué momentos? Un momento extraordinario Para estos dos grandes equipos Regresa Soccer vs. Fútbol